col passare del tempo però il re riacquistò parte del suo prestigio e accettò addirittura di firmare la costituzione era il segno di una riappacificazione con la nazione non proprio in realtà luigi sedicesimo stava ancora progettando la fuga e aspettava solo il momento opportuno per attuarla la notte tra il 20 e il 21 gennaio 1791 mise in atto il piano e si diresse verso il confine insieme a tutta la famiglia il convoglio però venne bloccato a varen vicino a lussemburgo e i borbone furono costretti a ritornare a parigi stavolta come prigionieri della nazione